Buongiorno a tutti, 7.07 di oggi mercoledì 4 ottobre, benvenuti in un nuovo appuntamento con Good Morning Milano in compagnia di Lorenzo Masieri e di Fabio Ranfi, buongiorno a tutti Buongiorno a te Lorenzo, tutto bene? Tutto bene, dai sì, per essere mercoledì sì Dai, ma questa settimana è iniziata un po' lentamente È iniziata male Previsioni del tempo che mi dà il mio computer qui della regia mi dice oggi molto umido La sella era asciutto, io capisco l'umidità in base a quello Mi fa paura questo molto umido, non è il caldo quanto l'umidità Ho paura che anche oggi andremo a un'altra giornata calda, dopo la vediamo meglio nel dettaglio magari vediamo un po' le temperature che danno oggi su Milano perché continuiamo, qui veramente semestre ancora ad agosto Settembre ce lo siamo bevuti con il meteo Ormai siamo ad un ottobre che è quasi un appendice di un agosto Il problema sarà quando arriverà l'inverno Infatti, ma poi dicono che non c'è solo riscaldamento globale Ah no, 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 vabbè Il problema è quando e se arriverà l'inverno perché crediamoci l'anno scorso siamo scesi sotto zero mi pare se non sbaglio quattro giorni basta durante l'inverno Però comunque fino a fine maggio c'era freschino E poi dopo sì, insomma, quella stagione un po' così Che va lunga Iniziamo comunque, dai, si inizia con i pinguini tattici 331-78-53555 Pinguini tattici nucleari Ruba Milano a te 7 e 11 minuti Mercoledì 4 ottobre Ben ritrovati qui a Good Morning Milano Canzone che rispetta i canoni quelli che citiamo sempre di TikTok Eh sì Perché io ricordo sempre ne ho parlato anche le prime puntate se ci avete seguito della versione fatta su Calenda che ho rivisto recentemente e aggiungo a le varie cose poi una foto no sense e restando in tema Milano-Lombardia la foto no sense era con Letizia Moratti A lui e Letizia Moratti Lui e Letizia Moratti Infatti io tuttora ho comunque non è stata chiarissima quella mossa però Vabbè, sono quelle mosse strane Comunque notizia di oggi che Renzi ha riaperto a Calenda dice se vuole per le europee ci sono Ho letto poco fa su Open c'era questa notizia e ho detto vabbè continuano ad aprire e chiudere porte e vabbè vediamo mi fanno rieggiare almeno questo questo sicuramente 7-12 minuti iniziamo con le notizie di oggi cosa c'è sui giornali caro mio Lorenzo Allora, il giorno Milano apre tra le varie notizie mi permetto di dire forse un po' più non importanti però un po' più d'attualità un po' più però vabbè lo citiamo anche perché recentemente abbiamo parlato del Belvedere Silvio Berlusconi ormai Silvio Berlusconi tra i grandi milanesi via libera all'iscrizione dell'ex premier nel pantheon del famedio del cimitero monumentale oggi alle 14 si riunirà la commissione proposta fatta dal capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico e appunto oggi si deciderà se quindi il 2 novembre potrebbe esserci ogni anno vengono inseriti una decina più o meno di personaggi all'interno del famedio del cimitero monumentale De Chirico appunto in qualità di capogruppo di Forza Italia in comune ha presentato questa richiesta oggi alle 14 si decide sembra che non ci sia alcun tipo di opposizione da parte delle opposizioni perché fattuale Vittorio Feltri direbbe fattuale beh ma sì ma sono i nomi dei grandi milanesi di quelli che con Milano hanno fatto cose quindi ci sta diciamo che le polemiche semmai le lasciamo ad altri su altri Belvedere o cose no adesso altri luoghi qualcos'altro? qualcos'altro per cui vogliamo le previsioni del tempo perché mi hanno chiesto le previsioni del tempo a Milano ieri sera verso le 22 e 30 i vandali hanno colpito ancora vi ricorderete dopo aver imbrattato la facciata di Vittorio Emanuele della galleria lo scorso 7 agosto questa volta è toccato purtroppo alla cupola della stessa galleria ad essere imbrattata tag firme scarabocchi incomprensibili tutti neri mi piace gli incomprensibili come se fossero comprensibili sarebbe meno grave comunque no beh è una roba assurda cioè che nel punto più centrale della città qualcuno possa arrampicarsi e fare quello che vuole lì sopra si dice che siano entrati nell'edificio per poi salire perché la mia prima domanda quando ero al mare bello 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 avevo visto la galleria di Vittorio Emanuele con gli tag sopra ho detto ma questi come hanno fatto no ma la domanda è chi gli ha aperto la porta è vero che magari sono intrufolati rimangono nascosti durante l'orario di chiusura e poi dopo diciamo subito ai vari giornali eccetera di certo non è sala che ha detto andate su perché quando succedono queste cose poi è sempre così è vero è vero è vero continuiamo con l'informazione sempre in diretta qui su Cristal Radio e su Milano All News perché è il momento di parlare invece di traffico di viabilità e lo facciamo con il consueto collegamento collegamento con la redazione di Luce Verde che così vuoi sapere un'anteprima secondo me c'è un po' di traffico sulla 4 è così così 7 e 19 minuti non so perché ho detto 12 stavo leggendo forse notizie così dalla canzone che c'era in onda Emma Luci Blu dal 2020 e continuiamo con le notizie che arrivano dai vari giornali di informazione locale grazie Lorenzo Masieri allora ricordiamo la news di ieri la grande news di ieri ossia che Franco Gabrielli è il nuovo delegato del sindaco Sala alla sicurezza alla sicurezza che non andrà a sostituire non farà non prenderà il posto di assessori eccetera ma semplicemente un terzo comodo non incomodo in questo caso esatto e si siederà al tavolo appunto con lo stesso sindaco l'assessore al welfare Lamberto Bertolè e il assessore alla sicurezza Granelli Bertolè proprio ieri a parte che oggi i giornali titolano ho letto il Corriere il Ronaldo no Franco Gabrielli è Cristiano Ronaldo una roba del genere molti hanno fatto anche riferimento a Gotham City comunque è stato lui a dire molti quindi hanno detto Milano e Gotham City veramente comunque Lamberto Bertolè speculando ovviamente per fare più click perché ci sono delle speculazioni in rete abbiamo visto su certi profili Instagram che non posso nominare di Milano che insomma sono un po' così la creazione del comitato strategico per la sicurezza urbana appunto ricordiamo che è coesione sociale è il titolo preciso è una bella opportunità per Milano con Granelli abbiamo l'idea abbiamo condiviso l'idea del sindaco Sala di costituire questo comitato per lavorare insieme al neodelegato Franco Gabrielli per ancora con maggior determinazione quindi come per dire comunque l'abbiamo fatto fino ad adesso secondo me doveva parlare il colpo sulla storia di Gotham City secondo me affrontare un tema delicato che le grandi città stanno vivendo negli ultimi anni soprattutto dopo la pandemia è un impegno eccetera a me è un impegno la pandemia tirano sempre dentro così dopo la pandemia come se dopo la pandemia tutto fosse colpa di quel momento lì hai parlato di sindaco ieri abbiamo parlato di questa cosa dell'aumento degli stipendi dei sindaci il sindaco disse grata il sindaco di Segrate è uscito diciamo a parlare un attimo in televisione appunto di questo tema giusto? in un'intervista al Corriere Milano ha dichiarato a Mediaset guadagnavo il doppio un po' quello che stavamo dicendo ieri e tra l'altro gestisco un bilancio da 35 milioni Paolo Micheli il sindaco di Segrate sappiamo che appunto con l'ultima legge di bilancio diciamo la popolazione di Segrate vedrà far alzare perché è la popolazione che fa alzare lo stipendio al sindaco quindi se vi sta sulle scatole un sindaco immigrate in un altro comune e fate guadagnare di più un altro sindaco esatto quindi il sindaco di Segrate leggiamo testualmente vedrà salire il suo compenso del 35% ma comunque appunto a Mediaset guadagnava il doppio lui lavorava a Mediaset mi fa ridere che il sindaco di Segrate lavorasse a Mediaset casa e bottega e soprattutto dice se cade un albero finisco in tribunale noi sindaci appunto spostiamo in bilancio milioni milioni di euro ricordiamo mille miliardi di euro a Milano invece siamo su delle robe da mille milioni di euro siamo su delle robe veramente fantasmagoriche cioè ci sono aziende che non fanno bilanci così alti e con imprenditori e dirigenti che prendono molto di più dei sindaci non so siamo diventati i difensori dei sindaci cioè come se come se ci pagassero qualcosa loro invece non so però forse no un po' di logica un po' di buonsenso come si dice buonsenso che dopo la pandemia ah no volevo hanno molta responsabilità e sono come appunto dicevo ieri vittime di quell'opinione pubblica diffusa del politico ladro e ultrapagato i sindaci e chi lavora nelle amministrazioni comunali chi lavora nelle amministrazioni in generale si infatti chi lavora nelle amministrazioni locali territoriali eccetera che hanno a che fare con comune e province difficilmente invece guadagnano quelle somme di denaro che fanno così tanto arrabbiare diciamo che ricordiamo che sono altre le posizioni che hanno invece stipendi d'oro e su cui magari ci sarebbe da discutere perché anche lì insomma non è che è difficile non si può dire no appunto bisogna appunto capire e ragionare su chi cosa a questo punto quello che fanno e come dicevi tu giustamente Lorenzo le responsabilità che hanno tantissime nel bene e nel male ci sarà sempre qualcuno che ti andrà contro per qualsiasi cosa quindi anche lì lasciare un posto non sto facendo riferimenti perché già nei primi 20 minuti ho già fatto troppi riferimenti al nostro sindaco ma chi lascia posizioni da manager in cui ultra guadagna per comunque può essere favorevole o no la sua linea però comunque c'è da apprezzare perché secondo me non tutti saremmo in grado di fare una ricordiamo anzi la crisi dei sindaci cioè che in alcuni comuni ricordiamo non si sono trovati i sindaci durante le elezioni 331-7853-555 il nostro numero di whatsapp grazie per il whatsapp che stiamo mandando appunto Alberto che ci saluta un saluto a Fabio e a Lorenzo e tutti gli amici di Cristal Radio in ascolto salutiamo anche noi tutti gli amici di Cristal Radio incomincia vai comincia Mario ci sarà Maria sicuro Laura c'è secondo me poi qualche Marco Marco sicuramente sicuramente una Silvia secondo me ce l'abbiamo sicuro insomma anche un Cristian Andrea Alessia insomma un po' di nome ce li abbiamo ce li abbiamo ce li abbiamo ce li abbiamo Ed Sheeran Ed Sheeran alle 7 e 32 minuti bentornati già nella peninia fita prima mezz'ora di trasmissione così data via quando ci si diverte come passa il tempo però ti ho visto molto intento a leggere le notizie mentre eravamo in pausa oggi molta rassegna stampa vai nota di colore tanto ormai lo diciamo sempre fino a un certo punto in questo caso però qualche giorno fa era uscita la notizia che un blitz nelle case popolari di Via Leritusa aveva permesso di ritrovare decine di bici rubate ieri mi arriva una notifica su twitter del comune di Milano quindi twitter ufficiale comune di Milano twitter ufficiale comune di Milano emoji poliziotto leggiamolo testualmente emoji poliziotto se avete subito il furto di una bici o di un monopattino cercatela sulla pagina facebook bici rubate e ritrovate della polizia locale emoji biciclette e monopattino potrebbe essere uno dei 27 veicoli recuperati dagli agenti in una cantina di Via Leritusa pensa a te emoji con il ditino info e il link evidentemente della pagina bici rubate e ritrovate c'è questa pagina dove mettono sulle foto delle varie bici che trovano quando fanno appunto questi sgomberi quando fanno queste retate e se c'è poi non funziona l'identificazione e tipo non so hai una foto non so è successo qualcuno che conoscevamo non mi collochi hai una foto con una bicicletta hai la prova d'acquisto sarebbe ancora più figa ma fa niente chi ce l'ha però no magari hai un post hai fatto un post con la tua bicicletta oppure appunto hai una foto cioè se tu hai una testimonianza che puoi far vedere che è tua o magari la descrivi in certi particolari per cui te la danno te la ridanno sì e non è male come roba sai che adesso quando dimentichi il telefono nei locali poi quando lo vai a richiedere ti fanno sempre il test della cover ah questo non so sì quante volte l'hai già perso no io mai però senti scusa io come faccio che non giro la cover sul telefono eh bu scusa non posso fare la prova del pin anzi ma scusa c'è il face ID mi dà la faccia lo guardo infatti c'è adesso però non lo sapevo mi è capitato di sentire questa cosa può essere facile facile faccia dire ho perso un cellulare effettivamente se vai in un locale dire ho perso un iphone ce l'avete qui secondo me ce l'hanno sicuramente da qualche parte uno lì quindi com'è la pagina facebook bici rubate ritrovate mi pare adesso bici rubate ritrovate bici rubate ritrovate esatto pagina facebook bici rubate ritrovate che è pagina facebook fatta dal comune di Milano della polizia locale di Milano se trovate la foto della vostra bicicletta potete appunto riclamarla diamo velocissimi su una notizia un po' l'abbiamo annunciata ieri poi ne parleremo in maniera più approfondita con Walter Cherubini dismessa la sede di via noto dell'università degli studi di Milano già dismessa sarà dismessa e ieri sono partiti i cantieri in via Celoria per arrivare al 2025 con un nuovo stabile un nuovo edificio appunto che si andrà ad aggiungere già i tanti della statale quindi sarà ancora più difficile passare da una parte all'altra però vabbè comunque almeno sono concentrati lì quindi dismessa la sede di via noto quindi poi tutti i problemi che sappiamo benissimo che i ragazzi che vanno in via noto saranno contenti quelli da studi comunque hanno paura appunto della smigrazione di altri pezzi di facoltà in quel di mind nella vecchia area expo invece così gli si porta lì tutta cosa è beniculturale giusto? e quindi possono continuare ad affittare le case agli studenti saranno anche molto contenti le signore che vanno in una nota catena di supermercati che vende pesche sulla linea del 14 che i poverini poverine non trovano mai posto quando salgono su 24 hanno veramente moltissimi problemi perché vanno tutti in quel di via noto e allora adesso invece è Takagi e Ketra con Ciclone insieme ad Elodie ed è subito estate subito estate con tutti i suoi pro e i suoi contro e per me l'unico contro dell'estate sono i tormentoni quindi c'è una cosa andiamo avanti andiamo avanti cosa dicono i giornali cosa dicono cosa dicono questa mattina lunga la segna stampa questa mattina lunga la segna stampa comitati di residenti contro la Movida sappiamo benissimo dove ovunque praticamente dove ovunque perché anche nell'ultimo weekend si legge su Repubblica Milano anche nell'ultimo weekend Decibelo oltre i limiti i commercianti invece puntano il dito contro la prospettiva della chiusura dei Deor a mezzanotte infatti al centro dell'ordinanza che dovrebbe scattare il 10 ottobre quindi questo weekend nella zona di Porta Venezia ok appunto imponendo la chiusura anticipata dei Deora a mezzanotte e il divieto di vendita di bevande e alimenti da sporto alle 24 io più volte più volte vi è arrivato il mio sbuffo più volte si è parlato di questa cosa e poi io credevo che ci fosse già il divieto di ma non esistono i divieti ma scusa ma poi fai 400 metri ma neanche 200 metri vai in quei distributori automatici prendi quello che vuoi prima cosa chiudere Deor è peggio perché tanto la gente se è lì non è che se ne va io chiudo il Deor e si appoggia col suo bel culo la sua bella schiena della canzone di prima sul Deor e quindi sta lì comunque cioè non è che vabbè io queste cose qui non le capisco davvero e c'è il problema esiste ma non lo sistemi così non lo sistemi così in tutto il mondo c'è questo problema perché se vai a Parigi è uguale se vai a Barcellona non parliamo però non lo sistemi imponendo queste regole assurde perché sono veramente assurde anzi che vanno solo poi a rompere le scatole i commercianti che già devono pagare quello pagare quell'altro stare dietro a tutte le spese che hanno e tutto e poi devono anche quando arrivi cosa vuole col sorriso è ovvio che non si può essere incazzati cioè notate che ultimamente nei bar è difficile trovare un barista che ti sorride perché è incazzato è normale che è incazzato c'ha tutti i motivi di essere incazzato un barista già riprendendo il discorso della pandemia già purtroppo è un miracolo che si è aperto infatti infatti chiedimi come si potrebbe risolvere come si potrebbe risolvere sempre Repubblica Milano titola sicurezza a fine anno arriveranno 3000 vigili urbani siamo al giro di boa di quel progetto che porterà a fine 2025 circa 3350 agenti di polizia locale porterà a 3350 agenti di polizia locale il totale dei vigili di Milano tra virgolette dei ghisa dei ghisa io quando leggo ghisa bello bello a me piace a te piace sì 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 perché non è come sbirli che invece è una cosa ghisa è proprio anzi è una cosa bella di tradizione milanese quindi no mi piace mi piace anzi io vorrei tanto che tornassero a fare i vigili e non i rambo che ogni tanto li vedi con questa una nuova divisa abbiamo parlato è questa cosa che mi fa un po' girare invece è bello il vigili quartiere che tu vai ci parli ti dà consigli poi ti cazzi anche cioè tu sei il barista che mette perché i bar sono buoni ma anche sono quelli che poi si ne approfittano metti il tavolino dove non devi metterlo lui viene e ti dice oi non lo mettere lì e ti dà anche la tua multa bellina però poi è un deve essere un agente colloquiale non so come dire con cui comunichi con cui parli lo vedi un po' a metà tra la protezione civile e la polizia diciamo ma soprattutto la vedo come colloquio sul territorio e poter parlare per arrivare anche poi semmai all'amministrazione cioè nel senso è uno che porti avanti anche un po' all'istanza di cittadini a volte Lorenzo non valevole cicciole devo approfondire eh beve tanta roba tanta roba ricordiamo questi erano Enzo Iannacci insieme a Isselton dal loro primissimo disco milanese che si chiamava Banana Milanesa Isselton è questo gruppo di ragazzi brasiliani che ha trovato ospitalità e asilo musicale non politico in quel di Milano anzi in quel di Loreto che dà il titolo poi a un altro loro album che è Loreto Paradiso approfondite Selton non so sono famosi si conoscono e questa è stata una delle ultime registrazioni di Enzo Iannacci comunque andiamo avanti c'è una nota di colore anzi il colore verde il verde che però non si vuole flora e fauna succede a San Donato milanese nel cortile dell'asilo ci sono moltissime nutrie rivolta ai genitori ottimo direi nel Pavese una volta se le mangiavano quindi volendo fate una bella grigliata ma non so quanto siano sane le nutrie che a San Donato hanno invaso la scuola immagino la rivoluzione più che altro è un asilo capisci che le nutrie sono più grandi dei bambini ma ti siamo oggi in classe 15 maestra più 8 nutrie ok ma quello che è una nutria o è Giacomino no una nutria insomma è un problema effettivamente a proposito di nutrie recuperate per me non me ne vogliano gli altri l'intervista migliore che è stata fatta ai nostri microfoni a Roberto Biscardini sul fatto di riaprire naviglie che non porterebbero nutrie ma sarebbe anzi una bella effettivamente una bella roba green che non sarà green ma blu ma blu infatti come dice lui come dice lui allora continuiamo invece con la musica perché qui su Crystal Radio è tempo di musica 3317853555 grazie a tutti i primi messaggi grazie a Rosalba del nostro buona giornata a tutti grazie mille Rosalba ciao ACDC highway 2L 8 e 08 bentornati su Crystal Radio bentornati a Good Morning Milano seconda ora di trasmissione e riprendiamo ancora la segna stanza e andiamo avanti e cosa fai mi metto a ballare e andiamo avanti la segna stanza questo è Masiri che fa il tip tap tip tap allora l'altro ieri grande inaugurazione di murales street art diciamo che costeggerà lo scalo di Porta Romana fulcro delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2020 villaggio villaggio olimpico appunto villaggio olimpico inaugurazione che è stata anche occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ecco saremo come al solito in ritardo tre mesi d'anticipo quella ciumbia tre mesi d'anticipo ma Milano Finanza rimarca il fatto che rimanga il nodo degli extra costi che come sai per le varie vicende internazionali e non sono aumentati cioè non perché siamo in anticipo sono aumentati no assolutamente rimane appunto il nodo extra costi per 40 milioni ricordiamo a parte che all'inaugurazione oltre a varie cariche come per esempio come sempre a Milano un giorno sì un giorno no il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini Matteo Salvini anche chiaramente Elena Buscemi presidente del consiglio comunale di Milano che in un posto su Facebook ricorda che dopo le Olimpiadi lo stesso scalo ospiterà il più grande studentato d'Italia con 1700 posti che sarà convertito per l'anno accademico 26-27 quindi subito 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 beh sì finiscono beh fai conto che le Paralimpiadi credo che finiscano verso la fine di febbraio primi di marzo e quindi si ci sta che poi sei mesi mi sembra abbiamo parlato e vi vi ricordo di andare sul sito di Milano News abbiamo parlato con Cristian Busato facendo un giro facendo un giro ingegnere edile ingegnere edile ingegnere civile scusate abbiamo fatto un giro fuori dallo scalo per vedere un po' lo stato delle cose al febbraio dello scorso anno più o meno se non mi ricordo male sta di fatto comunque che già lui ci diceva ricordatevi che poi tutto questo diventerà appunto uno studentato e ci vorranno più o meno tra i sei e i nove mesi per la riconversione dopo essere stato adibito a villaggio olimpico per diventare appunto studentato mi piace questa cosa perché qualsiasi cosa si faccia a Milano temporanea poi sulla carta è sì poi dopo ci faremo uno studentato poi quando si arriva lì in realtà su mille posti disponibili 200 diventa quindi tra l'altro lì vicino ce n'è già uno nuovo un nuovissimo proprio all'inizio di Ripamonti fatto appunto dove c'era il consorzio agrario e lì appunto c'è tutta una questione sullo studentato appunto e in più non siamo lontanissimi neanche dalla comunque Bocconi che ha un altro studentato di più diventerà un altro come dici tu un altro polo importante dell'università l'effetto ex per quello di riconvertire meno male che diceva effetto il sindaco è ancora un po' fermo a Expo secondo me però nel senso buono nel termine beh sì l'effetto Expo dopo quasi dieci anni però insomma non male che si continui ad avere questo effetto volano sulla nostra città continuiamo con un po' di musica ti direi ti amo ma in realtà te lo dice Tecla non te lo dico io ti amo ma ti amo ma sei vegana diceva noi lo stato sociale ad esempio la preferisco a quella di Umberto Tozzi ah giusto perché era senza ma quello quello era solo ti amo così ti amo ma ah beh che cambia tutto beh la vostra generazione è la generazione del dubbio la generazione che insomma non sa bene cosa vuole o forse lo sa ma noi altri facciamo fatica a comprendere le vostre richieste io non credo tanto a questa cosa qua dei giovani non capiti eccetera madonna sei proprio vecchio dentro old inside cioè no che alcune volte benvenuti qui a questa radio su Milano Morning Morning News qui con il vecchio Masieri e il giovane Ramfi no che alcune volte si beh quello sicuramente quello sicuramente quello sicuramente il giovane Padua come è che era quello di quella stellare non mi ricordo no vabbè sì sì star wars no che molto spesso non si faccia caso alle istanze alle esigenze dei giovani quello sicuramente soprattutto in una grande città come Milano ne parliamo tutti i giorni qua dalle sette alle nove per altre cose invece sono un po' più critico sulla mia generazione e quelle successive come cantavano gli W my generation ok cosa dicono i giornali colore no riprendendo brevemente il discorso sulla rigenerazione di grandi no non urbano di grandi eventi cioè di grandi eventi di grandi strutture per grandi eventi come appunto è stato l'Expo come sarà le Olimpiadi Milano Cortina 26 lo sarà anche la pista da Bob che verrà fatta dove? alla montagnetta no ah no pensavo una volta hanno fatto i campionati del mondo di sci alla montagnetta non lo sapevo sì sì ha vinto Tomba prima che Tomba fosse famosa comunque andiamo avanti con un documentario su Netflix di Tomba si vedono le immagini non si sa ancora niente della pista da Bob ne abbiamo parlato già l'anno settimana scorsa cortina no devono fare la pista da Bob sì esatto la devono fare in Veneto solo che molti comitati si oppongono perché è difficile rivalutare una rigenerare una pista da Bob facci il toboga dopo non è proprio una bella idea effettivamente sono i tappeti sì 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 o facci i tronchi di Gardaland capito ci fanno con l'acqua e poi rovinerebbero questa la tesi anche il panorama delle montagne ma adesso io apro quindi una domanda ma non ci avete pensato prima di dire sì alle Olimpiadi cioè questo che io chiedo nel senso che qui è un po' la sindrome del NIMBY comunque perché va bene tutto però poi vogliono Olimpiadi perché arrivano i turisti i spettatori le squadre così e gli alberghi vanno bene però non vogliono la pista da Bob che ti dico non la vorrei neanche io perché fa veramente schifo perché tu immaginati una colata di cemento anzi un mezzo tubo fondamentalmente quello un tubo dell'acqua più spalti della fogna mezzo che vieni giù a serpentina l'uomo della montagna più di fianco in alcune curve gli spalti le strutture sopra per la partenza le strutture sotto per gli arrivi cioè li capisco che non vogliono una S di cemento sulla loro montagna però la domanda è questa ma a pensarci prima cioè ma non lo sapevi che all'Olimpiadi c'è il Bob lo sapevano anche Mimmo Balduccio cioè lo diceva qualche settimana fa nel senso non lo sai che all'Olimpiadi c'è il Bob lo slittino e il Bob 4 con 4 con 4 senza no quello è il kayak nella canoa ma comunque c'è c'è il Bob 2 il Bob a 4 nel senso ma non lo sapevano io questo mi chiedo erano impegnati a dire che serviva l'aeroporto l'aeroporto il treno sì sì l'aeroporto di Cortina infatti vabbè e poi invece il treno lo faranno no nel senso anche lì c'è questa idea di rimettere una linea e invece stiamo qua a discutere su un tubo di cemento che viene giù ma non si può fare smontabile credo che in termini di costi non convenga ho capito ma non è che costi benefici non conviene il costo ma conviene il beneficio magari non lo so vabbè e ora un grande classico un grande classico The Cramberries 1993 Zombie 8 e 24 minuti in questo istante qui su Crystal Radio ricordiamo 331 7853555 il numero di Whatsapp a cui potete scriverci e ricordiamo anche che potete vederci sia su milanognews.it che su Youtube e Twitch appunto di Milano News potete ascoltarci ovviamente in FM 96.2 Crystal Radio DAB Plus perché cercate sulla vostra autoradio schiacciate il pulsantino Mode Mode che non sono le mode del momento ma è la modalità di utilizzo dell'autoradio e sicuramente non c'è più AM FM ma c'è FM e DAB Plus quasi sicuramente se avete una macchina comprata soprattutto negli ultimi 5 anni quasi mi viene da dire ormai sono abbastanza confidente come dice il nostro Walter Cherubini con questa data o se non c'avete il DAB potete sempre avere l'applicazione iOS o Android e ascoltarci come fanno molti perché insomma facciamo compagnia durante le faccende in cui sono affaccendati quindi al 331 78 53 555 potete anche scriverci per dirci cosa state facendo no voglio non voglio farti parlare voglio fare tutto il pezzo non so come intromettermi questo è bullismo questo è bullismo questo è bullismo quindi potete mandare anche un sms solidale al 331 78 55 55 per un hashtag io sto con Lorenzo io sto con Lorenzo grazie mille va bene 30 secondi Lorenzo Masieri di qualcosa di intelligente oh dio adesso troppa troppa pressione recuperando il discorso sulla neve sul ghiaccio sull'inverno il bando di Palazzo Marino per la Gorà per la gestione della Gorà prevede appunto la gestione della struttura per tre anni ma è andato vuoto al momento sta cercando stiamo ancora il comune di Milano sta ancora cercando un titolare quindi è andato vuoto per al momento questo bando non arrivano richieste diciamo sta cercando l'obiettivo è restituire la città del ghiaccio lo stadio del ghiaccio di Milano a la città di Lanza come ha detto la sessora Martina Riva ehi garçon mon amour 8 e 33 quanto amore questa mattina 8 e 33 minuti Cristian Radio prima c'era quella che ti amo ma adesso c'è il mon amour che si baciano ti amo ma però ti amo ho capito ma il ma va a escludere ciò che è stato prima no ti amo ma devo andare non sono razzista ma no ti amo ma devo andare al lavoro ti amo mi fa male i piedi ti amo ma ti puzza l'alito può essere così no invece qui è mon amour qui non puzza l'alito a nessuno perché si baciano io che bacio lei che bacia tu che bacia l'altro che bacia quell'altro fissa quell'immagine lì di Elish Line e Alessandro Zan al Pride quando sento questa canzone ma tu puoi avere queste immagini in testa ma tutti pensi io penso io quando penso penso a un'altra canzone penso a un'altra immagine c'ho lei davanti la bellissima e bravissima Annalisa soprattutto molto brava molto molto brava ce l'ho lì davanti e tu pensi invece a Elish Line a Elish Line e Alessandro Zan lì sui sugli stand del sai di avere dei problemi tu sì no ma non lo penso in maniera cioè adesso non voglio dire in maniera anche io vorrei pensare ad altro però ho in mente questa roba cos'è quelle robe lì quei video là che dici ma davvero è successa questa cosa e poi ti rimangono in testa sono quei frecci e ti rimangono in testa si può ritrovare dove tutto questo? su YouTube lo si trova sull'Internet sull'Internet si trova tranquillamente va bene hai qualcosa da leggerci che non sia una marcorda dei tempi andati della sinistra ormai di solvenza cioè qualcosa chiedo perdono per la velocità prima un piccolo misunderstanding come dicono le persone brave sostanzialmente c'è un bando del comune di Milano perché la Gorà c'è un bando del comune di Milano c'è un bando del comune di Milano che cosa vuole il comune di Milano? il comune vuole trovare qualcuno che gestisca la Gorà perché è caduto l'affitto a chi lo gestiva prima un annetto la Gorà è il palazzo dello sport del palazzo di ghiaccio di Milano ciclamini a Milano l'assessora allo sport Martina Riva dice che è una priorità di dare lo stadio del ghiaccio di Milano ai cittadini soprattutto soprattutto perché? perché? perché nel 2026 ci sono le olimpiadi del ghiaccio e quindi è necessario arrivare all'agibilità e alla piena fruibilità dell'impianto per gli allenamenti durante i giochi invernali Milano Cortina 26 quindi potrebbe essere qualora trovassero qualcuno disposto a metterlo a posto sistemarlo e prenderlo in gestione che sia tra le strutture utilizzate durante appunto i giochi invernali del 2026 ecco ma il problema è che al momento non è stato ancora non ci sono arrivate ancora proposte diciamo al momento sembrerebbe di no e quindi il palazzo di ghiaccio rimane lì non è cittadini speriamo che entro il 2026 invece arrivi qualcosa palazzo di ghiaccio ricordiamo essere anche la sede adesso non so come sarà gestita questa cosa la sede anche della scuola di hockey di milano che ha cambiato nome almeno 400 volte però siamo milano rosso-blu bisogna capire che cosa si farà insomma rintagliamo anche sul discorso sportivo per capire che milano ricordiamo non è sempre solo milano-inter e tantissime altre società sportive e tantissimi altri sport la pallavolo la pallavolo sabato sabato c'è la prima partita della femminile al cloud al cloud di quella che in teoria dovrebbe essere della squadra di monza ma che si sta sempre più avvicinando a milano perché il vero volley appunto arriva in quella di milano e giocheranno proprio qui all'alliance cloud in piazza stuparic sabato appunto c'è la prima sabato è l'otto non lo so va bene comunque sabato è l'otto ci sarà la prima mi sembra di sì dal vedere da qua dall'occhio che vedo là in fondo forse è domenica l'otto siccome abbiamo pochissimi secondi ti anticipo che dopo parleremo di treni ok va bene so che tu impazzisci impazzisco di treni impazzito da trenino pazza musica marco mengoni insieme a dell'od 8 e 40 minuti ci avviciniamo verso la fine di questa mattinata con gioia e gaudenzia sai che quando sento pazza musica penso a massimo d'alè no scherzo ok non fatti tu hai dei problemi veramente grossi con un'immagine pensa a massimo d'alè ma quando guardo boris quello sì va bene va bene andiamo avanti parliamo di treni parliamo di il treno è sempre il treno grande citazione del ragazzo di campagna grazie ah comunque l'otto è domenica l'otto è domenica non vi presentate sabato all'alliance cloud a dire voglio vedere la vero volley perché la partita è domenica allora ieri è stato presentato a milano il primo treno ad idrogeno d'italia quindi come si dice in questi casi capolavoro avanguardistico eccetera che entrerà eccellenza italiana eccellenza italiana che entrerà in funzione entrerà in servizio alla fine del 2024 inizio del 2025 adesso va bene al giorno dell'inaugura al giorno della presentazione fine 24 un anno e mezzo prima lo presento praticamente inizio 25 l'anno prima sarà lungo i laghi quindi Brescia Iseo eccetera e alla presentazione gli assessori regionali di regione lombardia Franco Lucente trasporti e mobilità sostenibile e Claudia Maria Terzi infrastrutture e opere pubbliche chiaramente tutti sottolineano il fatto che farà un po' da apripista verso quel tipo di mobilità sostenibile pubblica andando incontro anche alle direttive europee e al interessante interessante infatti non è un caso anche le tratte che farà insomma diciamo che cercherà di impattare il meno possibile su un ambiente che è quello anche dei laghi delle prealpi appunto e quindi cercare di impattare il meno possibile piano piano tutti i mezzi pubblici c'è una lenta rivoluzione dei mezzi pubblici anche a guardare in giro molti non lo sanno ma ad esempio ci sono degli autobus a Milano che sono elettrici tranquillamente li vedete se andate a Zara formate lì l'Azara scendete poi lì di fianco c'è la stazione di carica perché quando arrivano al capoline in realtà si attacca sopra una sorta di magnete grosso diventano in un certo senso una specie di tram c'è il troll e si attaccano e vengono ricaricate appunto mentre fanno il capoline non mi ricordo che linea è ma comunque la vedete lì in sacca e poi è impossibile non capire quali sono quegli elettrici in giro perché praticamente non ci sono più pubblicità ma c'è solamente scritto a tutte le parti 100% elettrico 100% Masiri c'è scritto per il tram che non deve chiedere mai così va bene hai qualcos'altro Prada Prada cosa succede Prada diavolo veste Prada ha a che fare con la settimana della moda no Prada aiuterà a ripristinare aiuterà al lavoro di piantumazione e manutenzione dei 200 alberi caduti al Parco Nord nella famosa notte del nubifragio quella di metà fine luglio ah quindi beh è una cosa bella insomma si finanzia la riposa la rimessa la rimessa in posa la rimessa a terra la rimessa a terra mi sembra che burti giù poi ne sembra la ripiandano ecco le ritirano su le ripiantano per bene collaboreranno per questo ok ce l'abbiamo fatta cioè collaboreranno finanzieranno fondazione Prada dai complimenti bravi bravi abbiamo fatto qualcosa di buono per la città insomma sappiamo quanto fondazione Prada è in sita in Milano e quindi insomma un aiuto a questa Milano che ancora oggi comunque si vedono tanti momenti tanti luoghi in cui questo famoso nubifragio del 24-25 luglio insomma ha lasciato i suoi segni solamente qualche settimana fa è tornato tutte le linee dei mezzi pubblici sono tornate a pieno regime da pochissimo e allora adesso andiamo con un po' di musica Crystal Radio è il tempo di Gali Gali con Walla 8 e 46 minuti Crystal Radio ben tornati ben ritrovati ci stiamo avvicinando appunto alla nostra conclusione della mattinata su Crystal Radio ma poi rimanete comunque su Crystal Radio perché insomma tutta la giornata va avanti con la grande programmazione stanno incominciando di nuovo tutti i vari programmi ai nostri amici poi pian piano durante il prossimo mese caro Nio Masieri faremo venire anche qui in trasmissione per presentare appunto tutti gli altri programmi insomma siamo un po' anche il programma vetrina della mattina noi per cui cerchiamo di dare spazio a tutti coloro che sono appunto su Crystal Radio potete seguire Crystal Radio FM 96.2 DAV Plus sito internet app per iOS Android oppure potete rivedere vedere in diretta e rivedere tutto quello che facciamo sul sito e sulla YouTube e Twitch di Milano All News è detto tutto ok basta chiudiamo qui adesso basta il numero manca il numero 3317853555 per scriverci buongiorno come state cosa state facendo infatti potete mandarci tutti i messaggi grazie ad Adriana per il suo messaggio del buongiorno grazie mille di averci scritto anche quest'oggi è bello che ogni tanto poi tornano i vari nomi e capisci anche quando fanno smart working o no perché magari se fanno smart working ci ascoltano un po' più tardi invece se vanno al lavoro ci ascoltano dalla macchina dall'autorada insomma quindi è bello sono contento smart working vuol dire svegliarsi 5 minuti prima prima del lavoro ok sì sì infatti è così è così quindi noi domani comunque siamo ancora qua infatti domani siamo ancora qua potete continuare a seguirci anche sui social di Milano News e di Cristian Radio sullo YouTube di Milano News potete ritrovare tutte le interviste di tutti gli ospiti che passano sempre qua quasi tutti i giorni appunto a raccontarci quello che succede nella nostra città magari faremo un sondaggio su chi vi è per la fine del mese qual è l'ospite del mese così poi gli diamo gli diamo una medaglietta lo so lo so lo so ma non possiamo dirlo anche se lo salutiamo tanto che in questo momento magari tra tante carte mi sa che così va bene va bene dai fra poco sempre qui su Cristian Radio adesso i Dire Straits grazie a tutti